L'Ode ad Allah, Signore dei mondi che disse nel Sacro Corano, O voi che credete vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno presciduto, forse diverrete timorati. È testimonio che non c'è Dio che è Allah, è testimonio che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero che disse in un hadith sharif, uno dei suoi detti, che ha aggiunato il mese di Ramadan per fede sincera, cioè convinzione, sperando in una ricompensa di Allah, allora tutti i suoi peccati passati saranno perdonati. Bacce e benedizione di Allah sul messaggero Muhammad, sulla sua famiglia, su tutti i suoi combani e su quelli che li seguono con carità fino al giorno del giudizio finale. Seguitando in merito, una delle grazie che Allah ha conferito ai suoi servi sono le stagioni del bene, in cui i favori sono consecutivi, le misericordie vengono dal cielo, i premi sono ingranditi e duplicati. Disse il profeta, bacce e benedizione di Allah su di lui, Allah, l'Altissimo, vi concede dei favori nei giorni della vita mondana, cercate di prenderli perché se li prendete non sarete mai miserabili. Una delle stagioni più benedette e preferite è il mese benedetto del Ramadan, è il picco dei mesi e il più grande di loro. I suoi giorni sono i giorni migliori e le sue notti sono le più chiare e pure. E il profeta, bacce e benedizione di Allah su di lui, sentiva la gioia per l'arrivo del Ramadan e l'annunciava ai suoi combani che Dio li benedica. Si narra che Abu Huraira, che Allah sia soddisfatto di lui, disse, il messaggero di Allah, bacce e benedizione di Allah su di lui, disse, vi è venuto il mese benedetto di Ramadan. Dio ti ha aggiunto di digiunare e quando arriva Ramadan vengono aperte le porte del paradiso e chiuse quelle dell'inferno e i demoni vengono legati. Nel Ramadan c'è una notte meglio di mille mesi. Miserabile è colui che è privato il perdono di Allah in questa notte. I compagni del profeta che Allah li benedica invocavano Allah di farli rimanere in vita fino al mese di Ramadan e di dargli la forza per migliorare le loro orazioni in Ramadan. Di questo disse Ibn Ragabba che Allah abbia misericordia sulla sua anima. Tanti buoni fedeli che Allah abbia misericordia sulle loro anime invocavano Dio per sei mesi per farli raggiungere il mese di Ramadan. Poi bregavano Allah per altri sei mesi per accettare le loro orazioni. Yahya ibn Abi Kathir riferì tanti delle loro invocazioni tra le quali Dio fammi raggiungere Ramadan, fa Ramadan raggiungere a me e poi riceve Ramadan da me e accetti le nostre orazioni alla fine del mese. Si narra che già per figlio di Abdullah che Allah si compiaccia di loro disse il profeta pace e benedizione di Allah su di lui è andato a salire il bulbito. Sul primo gradino ha detto Amen e poi sul secondo gradino ha detto Amen e sul terzo gradino disse Amen. I compagni hanno chiesto O messaggero di Dio ti abbiamo sentito dire Amen tre volte perché ha risposto il profeta bacio e benedizione di Allah su di lui quando sono salito il primo gradino è venuto da me l'arcangelo Gabriele bacio su di lui mi ha detto miserabile è colui che ha raggiunto Ramadan ed è privato del perdono di Allah in questo mese perciò ho detto Amen mentre ci prepariamo a ricevere questo ospite d'onore fra pochi giorni dobbiamo prendere del messaggero di Allah bacio e benedizione di Allah su di lui e suoi compagni o modello da seguire nell'adorazione e nelle orazioni in questo benedetto mese e il musulmano dovrebbe rievocare la buona intenzione di rinnovarla perché Allah l'onipotente giudica gli adoratori in base alla buona intenzione che è il segreto della citazione dell'adorazione di questo disse il nostro profeta bacio e benedizione di Allah su di lui la ricompensa dell'azione dipende dalle intenzioni e ogni persona riceverà i premi secondo ciò che ha voluto quindi chiunque emigra per l'amore di Allah e del suo messaggero la sua emigrazione sarà considerata come per Allah e il suo messaggero e chiunque emigrerà per benefici mondani o per una donna da sposare la sua emigrazione sarà considerata a favore di se stesso Amo Hurairah che Allah sia soddisfatto di lui riferì e il messaggero di Allah bacio e benedizione di Allah su di lui disse Dio l'onipotente di sé ogni azione del figlio di Adamo Adamo li appartiene eccetto il digiuno che appartiene a me ed lo ne do ricompensa il digiuno è un'armatura e quando sia giorno di digiuno per uno di voi non nutra propositi osceni né voceferi e se qualcuno lo angiuria o lo combatte dica o sto digiunando e per colui nella cui mano e l'anima di Muhammad l'alito cattivo che promana dalla bocca di colui che sta digiunando è migliore davanti a Dio del profumo del moscheo il musulmano nel mese di Ramadan dovrebbe aumentare i lati di culto e le buone azioni rispettando i brecetti del profeta bacio e benedizione di Allah su di lui e quello che stava facendo nella vita sua come fare presto l'Eftar e il basto immediatamente successivo al tramonto di questo disse il profeta bacio e benedizione di Allah su di lui la mia comunità si comporterà bene fin tanto che si affretterà al futuro l'Eftar e ritarderà il Suhura cioè il basto prima dell'alba disse anche il profeta bacio e benedizione di Allah su di lui benedete il Suhura perché nel Suhura c'è benedizione e prosperità non dobbiamo essere eccessivi nel nostro cibo e vivanda di questo Allah disse mangiate e bevete ma senza eccessi che Allah non ama chi eccede e disse il profeta bacio e benedizione di Allah su di lui nessun uomo riempie un contenitore è meglio del suo stomaco alcuni bocconcini che gli tengono la schiena diretta sono sufficienti per lui se deve allora dovrebbe mantenere un terzo per il cibo un terzo per bere e un terzo per il suo respiro è meglio per i ricchi capire e sentire i bisogni dei poveri durante questo benedetto mese il Ramadan è il mese della generosità è il mese della misericordia della dolcezza e del buon trattamento verso le orfani, le vedove e verso i poveri con tutte le forme della solidarietà è una cosa che darebbe a loro la gioia e la felicità particolarmente nel mese di Ramadan come faceva il nostro profeta pace e benedizione di Allah su di lui si narra che Ibn Abbas che Dio si compiaccia di lui e di suo padre disse il profeta era l'uomo più generoso e aveva molta generosità quando incontrava Gabriele e quando gli veniva tutte le notti di Ramadan per inseriarlo i versetti del Sacro Curano quando Gabriele lo incontrava l'inviato di Allah baci e benedizione di Allah su di lui era certamente più generoso del vento portatore di pioggia la generosità del Ramadan non consiste solamente nel dare i soldi ai poveri ma il suo significato è più ambio di quello essa comprende la carità la compassione l'affetto reciproco e la cura dei diritti e dei doveri dell'altri inoltre il musulmano deve preoccuparsi di fare i più atti di culto come leggere il Corano e contemplare i suoi significati deve fare la preghiera del Tarawih cioè la preghiera della notte di questo disse il profeta Muhammad chi fa la preghiera nella notte di Laila Tal Qadr cioè la notte del destino con una fede sincera e la volontà di guadagnare il bordone di Dio allora tutti i suoi precedenti e futuri peccati saranno perdonati nei tempi moderni c'era la vittoria del 10 di Ramadan il 6 ottobre avvenuta con l'aiuto di Allah l'Egitto ha riconquistato le sue terre e la sua dignità lo slogan dei soldati egiziani era Allah e grande continuavano a digiunare brigavano di notte leggevano il Corano e invocavano dai loro cuori lì la vittoria abbagliante è divenuta realtà e gli assalatori sono stati scacciati i soldati egiziani difendevano la religione la patria, la terra, l'onore questo aveva un buon senso morale per chiunque pensasse di attaccare l'Egitto quindi dobbiamo avere lo spirito di Ramadan per ottenere vittoria in tutti i settori della nostra vita e per rafforzare il bilastre della giustizia del diritto per proteggere la terra, l'onore e la dignità in modo che la nazione riacquisti la sua posizione e il suo prestigio tra le altre comunità e popoli questo dovrebbe essere aggiunto solo con l'unione delle file, della parola della parola adottare un unico obiettivo realizzarlo con il lavoro duro e perfezionato fare il bene a tutta la gente O Allah ci benedica il mese di Shaban e ci dia l'opportunità di vivere il mese di Ramadan e accettare le nostre buone opere grazie dell'ascolto fratelli musulmani grazie a tutti grazie a tutti